Il jazz a potenza, al circolo culturale gocce d'autore, uno dei più giovani apprezzati artisti new yorkesi, il cantante e trombettista Benny Benac III, artista tra i più versatili e con una grande padronanza del linguaggio jazz. Grazie a Napoli. Una cornice ideale tra caffè letterario e night, quella del circolo potentino che sta riportando in città il buon jazz. Benny Benac III è il considerato una nuova promessa del genere, già vincitore di prestigiosi premi internazionali. A potenza ha presentato il suo progetto musicale Benny Benac Italian Quartet, da cui è nato il disco Kiss Me Slowly. Con lui tre nomi di grande spessore per il mondo jazzistico italiano, Daniele Cordisco alla chitarra, Giuseppe Venezia al basso ed Elio Coppola alla batteria. Formazione riuscitissima che ha registrato il disco durante il tour della scorsa estate, di cui potenza è l'ultima tappa. Un repertorio ricco coinvolgente tra il jazz mainstream legato alla tradizione e quello più innovativo degli ultimi decenni, oltre ai brani di Kiss Me Slowly, standard americani famosi e composizioni originali di Benac di Stambo Hard Pop, in cui emerge tutta la versatilità vocale e strumentale dell'artista americano e l'eccellente accompagnamento musicale dei musicisti che lo affiancano.